Le attività commerciali bitontine approdano in rete con SmartDUC, il sito web del distretto urbano del commercio. Il portale, totalmente finanziato dalla Regione Puglia, è uno strumento virtuale per esercenti e consumatori, con tutte le informazioni utili per orientarsi nell'offerta commerciale, turistica e di servizi cittadina. Ogni impreditore potrà entrare nel circuito e farsi notare attraverso la propria vetrina virtuale. Nella sezione PromoDUC si potranno infatti inserire informazioni, foto, descrizioni dei prodotti, promozioni e sconti. Gli interessati potranno apprendere nelle modalità di gestione attraverso i corsi di formazione, che a breve avvierà il centro di assistenza tecnica ConfCommercio Bariscarl, a cui è stato affidato il servizio. Insieme al portale SmartDUC sarà disponibile anche l'app DUC per iOS e Android, grazie alla quale i consumatori bitontini potranno accedere a tutti i distretti pugliesi, usufruire dei servizi, tenersi sempre informati sulle attività presenti a Bitonto e nelle varie città e aggiornarsi sulle promozioni in corso. In questo periodo di emergenza sanitaria, inoltre, il portale permettere alle attività di pubblicizzare ed effettuare la vendita a domicilio dei prodotti. Nel portale è anche presente una sezione, denominata SocialDUC, destinata a promuovere discussioni tra esercenti e cittadini sui temi di interesse comune. La registrazione alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo bitonto.smartduc.it, è già attiva. Gli esercenti che vorranno invece partecipare al corso di formazione potranno iscriversi inviando una mail all'indirizzo smartducbitonto.com